Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Io spero che qui dietro mi si veda, perché qui davanti oggi vi voglio presentare diversa roba che ci è stata inviata dalla Parabellum Games. Questa è la seconda edizione di Conquest The Last Argument of Kings, gioco che trattai già, se vi ricordate, nel canale, vi lascio il link in descrizione per andare a vedere il video precedente, tre o quattro anni fa, addirittura poi nel frattempo abbiamo anche cambiato casa, e gioco che viene ora rinnovato nel regolamento, nelle meccaniche, nelle miniature che già erano stupende al tempo, ora fanno veramente paura, e ve lo dico tranquillamente, non hanno niente, niente veramente di meno di qualsiasi altro editore di Wargame, quindi Games Workshop o quant'altro, miniature che se non erro dovrebbero essere sui 35-36 mm, quindi addirittura più grandi di quelle di Warhammer Leviathan, per farvi capire, e qui davanti vedete i nuovi eserciti, usciti da poco, che vi presento a breve, dopo la sigla. Conquest The Last Argument of Kings, wargame della Parabellum, è un gioco, è un wargame di stampo abbastanza classico, con meccaniche già viste bene o male in altri giochi, ma secondo me qui amalgamate veramente alla perfezione, è un gioco che è molto facile da spiegare, è un gioco che è molto semplice da giocare, soprattutto veloce, e la cosa bella, questo è un gioco che non ci gira intorno a tanti fronzoli, conquista al punto, prendi, questo è un gioco votato al massacro, ci sono le missioni sul manuale e quant'altro, però, che tra l'altro il manuale è gratuito, quindi non lo trovate dentro le scatole, trovate un zunto del regolamento, ma il vero e proprio regolamento è gratuito, tradotto in tutte le lingue, anche in italiano, e lo potete scaricare direttamente dal sito, quindi il regolamento è gratuito e lo sarà per sempre, anche chi non compra le miniature il regolamento è gratis, ed è molto semplice come regolamento, ci vede utilizzare delle fasi di comando, delle carte che vanno a rappresentare ciascuna unità, e ciascun giocatore avrà il proprio mazzo rappresentato da una carta per ciascuna unità che ha messo sul campo, le metterà in ordine e quando poi dopo le andrà ad estrarre, una, 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 una con il proprio sfidante, con il proprio avversario, quella sarà la carta dell'unità che verrà attivata, quindi anche saperle mettere non è casuale come bolt action, quando si va a pescare il dado, muoviti e muovi io, no, qui se c'ha le carte in mano sai già come le hai messe, te lo dovreste ricordare anche perché difficilmente ne avrà in mano più di 5, 6, 7, e quando le vai a tirare su, le vai a giocare scoperte, quella è la truppa che in quel momento si attiva, e in questo gioco si possono fare due azioni che sono la classica azione di movimento, la classica azione di combattimento, la classica azione di carica, la classica azione di tiro a distanza, oppure altre azioni che vanno a dare un bonus tipo prendere la mira e cose del genere, ciascuna unità ha delle caratteristiche, un po' come nel Warhammer Vecchio Mondo, e questa caratteristica è rappresentata da un valore sulla carta, quindi se l'abilità mi sembra degli opliti che hanno 2 o 3 a livello di combattimento, vuol dire che devono fare 2 o 3 meno, mi sembra 2, 2 o meno sul dado per colpire, quindi quando si andrà a tirare il dado da 6 che è il dado del gioco, dovranno fare 2 o meno, poi del regolamento ve ne parlerò meglio in un video dedicato, perché ci farò una partita con un amico, così da farvi vedere per bene quali sono le meccaniche e come si svolge il gioco, intanto l'ho fatto unicamente per darvi principalmente un'idea. Comunque è un gioco con quest votato alle botte, e anche a livello di combattimento i combattimenti si risolvano velocemente, quindi proprio carica, botte, risoluzione, uno non sa vince, uno non sa perde. Tra l'altro poi nel corso del video state vedendo una miniatura di un oplita, che vi vado a presentare anche la fazione di un oplita dipinto da mia moglie, e quindi come potete vedere le miniature sono di qualità altissima. Sono grandi, molto dettagliate, plastica bella resistente, un pochinetto forse noiosette da montare in alcune parti, perché comunque sono veramente tante 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 le parti che dovete unire, tipo che ne so, l'oplita, c'ha la lancia, c'ha l'oplon, c'ha la maschera, c'ha l'elmo, c'ha l'elmo corinzio, c'ha la crista, quindi comunque sono diversi pezzettini che dovete andare ad attaccare, il mantello, però comunque la resa finale è veramente stupenda. E qui davanti vedete unità degli opliti delle città-stato, dei city-states, che, manale dirvelo, riprendono un po' l'idea ellenica della guerra del Peloponneso o delle guerre persiane. Qui davanti potete vedere tranquillamente gli opliti delle città-stato che mi rappresentano un po' la Grecia dell'epoca, gli Atenesi, magari, non lo so, rispetto agli Spartani, i Tespiesi, e quindi sono unità che già a livello di ambientazione sono come le città-stato dell'antica Grecia, quindi sono tutte quante divise e il colore qui davanti è rappresentativo. Li potete fare blu atenese, li potete fare, ad esempio, rosso spartano, e poi dell'ambientazione che comunque sul sito trovate tutto. Ecco, anche a livello di ambientazione, sul sito della Parabellum, abbiamo non soltanto tutta l'ambientazione, ripeto, gratuita, e tutto materiale gratuito che non richiede regolamenti da nessuna parte, e in più hanno fatto una figata assurda, hanno fatto la mappa di gioco persistente che cambia, muta, a seconda dell'interesse della community o anche delle battaglie giocate. Quindi hanno una mappa live, un live world, che proprio cambia. Quindi possono cambiare anche le conquiste, può cambiare la morfologia del territorio. Quindi hanno questa ambientazione che viene creata al 100% insieme alla community, ed è una cosa che alla community, ai fan della Parabellum e di Conquest, piace veramente da morire. Quindi, qui davanti, scusate, qui davanti, la scatola base dei City States, con all'interno fanteria, polemarca, qui davanti vedete gli opliti, e unità speciali, come ad esempio i Minotauri da guerra, e un gigante da guerra, che secondo me è una figata assurda, perché hanno preso tutti i miti e le leggende dell'antica Grecia, e l'hanno fiondati dentro questa ambientazione. Il labirinto del Minotauro, il Minotauro è proprio una creatura che combatte per voi, i giganti dell'antichità, magari l'idei stessi, oppure anche Polifemo, sono creature che qui sono schierate con le città-stato. Quindi tutte le leggende, i fauni del bosco, ci sono anche loro, vengono fuori e vengono a galla per combattere con voi. Da quest'altra parte, Sorcerer Kings, che non a caso, con la parentesi, a livello di, come sono fatti le miniature, il genio della lampada, il gin, le magie, i guerrieri con le scemitarre e tutto, possono ricordare un po' o l'India, del tempo di Alessandro Magno, o anche, perché no, con questi turbanti un po' strani, i persiani dell'epoca di Cerse, della battaglia delle Termopili, o comunque della guerra persiana in Grecia. E non a caso, li ho presi insieme, perché mi sarebbe ripiaciuto, per quanto fantasy, di fare un po' una ricostruzione delle guerre persiane. Quindi, da questa parte, c'è un esercito basato qui, sul corpo a corpo, su sfondare dalle botte. Di qua, c'è un esercito basato, sì, sulle truppe da corpo a corpo, la fanteria, ma è applicato sulla magia. Sulla magia, addirittura, c'hanno un'unità da lancio, con oli e bombe, cose del genere. Quindi, ricordano anche un po', o gli indiani e i persiani, appunto, aprendo una piccola parentesi, nel nuovo set, che è in pre-order, sul loro sito ufficiale, link in descrizione, trovate la nuova scatola, che dovrebbe uscire entro luglio-agosto, dove, in questa nuova scatola, ci sono City States, all'interno, contro i Sorcerer's King, che vedete da quest'altra parte, e addirittura viene inserita la cavalleria dei City States, che sono gli eteri, di Alessandro Magno, dell'esercito macedone, e il generale, non il Polemarca, ma proprio il generale, sul cavallo in impennata, con l'elmo, con le due punte, col cimiere, e tutto quanto, è Alessandro Magno, che cavalca a Bucefalo. Quindi comunque, anche le miniature, sono bellissime, e, se siete amanti, della storia, come me, anzi, io sono più amante, della storia, che dei giochi fantasy, trovate un gioco, che, secondo me, unisce perfettamente, tutti e due. Faccio questo primo video, per presentarvelo, il gioco, andate, primo link in descrizione, per ordinare, tutta quanta questa roba, che poi, tra l'altro, avrò anche, un mio codice sconto, che se riesco, lo metto qui nel video, oppure direttamente, poi, lo farò non prossimo, e ricordatevi, che quanto prima, farò anche, una partita, per farvi vedere, un po' come girano, le regole. Ragazzi, questo conquest, sta prendendo, sempre più piede, nella seconda, sua versione, rifinito, è un gioco, che sta interessando, sempre più comunità, di giocatori, ed è un gioco, che a me piacerebbe, far conoscere in Italia, perché veramente, è molto interessante, le miniature, sono veramente belle, e, è piacevole, da giocare, è un bel gioco, niente meno di altri, quindi, e poi vabbè, a livello di miniature, storia, perfetto, bellissimo, fatemi sapere, cosa ne pensate, se volete vedere qualcosa, link in descrizione, ciao, alla prossima, se questo video, ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno, un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre, di iscrivervi anche, al canale Facebook, al canale mio, di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione, aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre, la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto, e social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima, a a Grazie a tutti.